Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Sinigaglia, la direttrice del Museo 800 di Bologna e oggi faremo un focus su un artista straordinario, Fabio Fabbi. Fabio Fabbi è un bolognese doc, nasce in via Santo Stefano 57, quindi veramente in centro storico, ma dal centro storico di Bologna diventa famoso in tutto il mondo. Qui in mano ho il taccuino del 1886, un taccuino che testimonia il suo viaggio straordinario in Oriente, un viaggio che lui realizzò assieme al fratello Alberto, da luglio a ottobre 1886. Raggiunse il fratello ad Alessandria d'Egitto e da lì, quando tornò, non fu più lo stesso. Infatti Fabio Fabbi si diploma prima a Bologna e poi definitivamente a Firenze in scultura. E questa è una cosa molto particolare, intraprende un percorso diverso rispetto ad Alberto, per esempio, che si diplomò in pittura. Fabio decide di affrontare la dea scultorea e si avvicina al suo grande maestro Augusto Rivalta, che era di origini piemontesi, un artista appunto molto noto in Italia. Si diploma e da Bologna appunto apre un suo studio molto importante in Lungarnos e Ristori a Firenze. Uno studio che gli amici dicono essere decorato non in stile orientalista, ma uno studio decorato in stile occidentale. Siamo infatti prima del viaggio del 1886. Uno studio che fa vedere i suoi interessi macchiaioli, che appunto collegano Fabbi alla rete fiorentina e italiana. In particolare Fabbi diventa un frequentatore molto noto del circolo artistico fiorentino. Ha due studi quindi, non solo a Firenze, ma anche a Bologna, in via Zamboni, in palazzo Malvasia. Utilizza appunto entrambi gli ambienti per crearsi una propria autonomia, ma una propria autonomia di artista di scultura. Crea molte medaglie di bronzo, ci sono i progetti per esempio in Archiginnasio che si possono vedere nel fondo importante della biblioteca dell'archiginnasio. E poi però succede un fatto. Nel 1886 va in Egitto e questo appunto cambierà completamente le sorti di Fabbi. Il viaggio dura cinque mesi. Parte esattamente da Firenze, arriva a Livorno. Da Livorno arriva a Napoli. Da Napoli passa in Sicilia. Qui ci sono tutti i disegni, il taccuino testimonia tutti questi disegni e i suoi viaggi. In particolare in Sicilia fa tre tappe, addirittura cinque giorni in quarantena. Fabbi non può uscire dalla barca perché sa che per problemi igienici potrebbe succedere qualcosa e quindi rimane cinque giorni. E in quei cinque giorni realizza tutte le mappe che sa vedrà in Egitto. E poi finalmente a un certo punto il 28 giugno 1886 parte. Sono due giorni straordinari di mare e vedrà solamente un'isola, l'isola di Candia, l'attuale Creta. arriverà finalmente in Egitto e in Egitto incontrerà figure straordinarie. Dall'Egitto potrà vedere appunto Abukir per esempio dove descrive una straordinaria esperienza. Descrive al suo amico Piattoli all'interno di una documentazione che ci è pervenuta e che non è contenuta nel taccuino. Descrive che arriva da Abukir col treno dopodiché vede dal mare la barca del capitano Nelson che nel 1815 fu abbattuta dalla flotta francese. Insomma veramente dei viaggi straordinari che gli rimangono nell'anima. A metà del viaggio in Egitto arriva al Cairo e al Cairo ha la possibilità di vedere le piramidi naturalmente. Entra all'interno della spinge, si aggira per i mercati orientali, si innamora delle donne arabe, si innamora dei fumatori di hashish, riesce a vedere le oasi dell'Egitto e questo per lui sarà un viaggio straordinario che veramente lo affascinerà completamente. Ad un certo punto nel taccuino addirittura scrive che per la prima volta dopo tre mesi aveva piovuto. Ad un certo punto a metà agosto c'è un piccolo terremoto e poi ad ottobre si reimbarcherà sulla nave Asia per tornare in Italia. Dall'Italia naturalmente porterà il suo stile orientalista in tutto il mondo. Ricordiamo che Fabio Fabbi, bolognese doc, è l'artista orientalista più conosciuto a fine ottocento. Dopo naturalmente Alberto Pasini che appunto è un orientalista documentarista di metà ottocento, Fabio Fabbi può essere soprannominato ed è stato soprannominato da Paolo Stivani, grande studioso bolognese, l'ultimo degli orientalisti. Una frase straordinaria che ci fa capire che lui veramente chiude questo periodo mitologico, favolistico, favoloso, un periodo che viene caratterizzato da questo gusto per l'Oriente, un gusto che non si vede solamente nelle opere pittoriche di cui adesso andremo a parlare, ma si riflette anche negli ambienti naturalmente, ma anche nella letteratura. Un Oriente immaginifico, un Oriente che in realtà non è più documentaristico come era quello di Pasini naturalmente, ma è un Oriente borghese, intellettuale, un Oriente rivisitato alla luce del fin des siècles. Molte opere che possiamo vedere al Museo Ottocento sono opere che andavano a decorare gli ambienti di fine secolo. I fumoir, la borghesia naturalmente italiana, aveva bisogno di ospitare all'interno delle proprie case importanti ospiti e quindi le case dovevano riflettere questo gusto per l'esotico, un gusto che ovviamente incontrava gli interessi di Fabio Fabbi. Fabbi realizza queste donne straordinarie, spesso completamente nude, come possiamo vedere qui, la favorita dell'Arem, uno dei quadri più iconici, un quadro che addirittura è stato pubblicato in un volume degli anni Ottanta francese che si chiama Les orientalistes italiennes, un volume iconico per l'epoca che faceva vedere tutti gli orientalisti italiani dell'Ottocento e tra le opere pubblicate di Fabbi si vede questa, una donna che languidamente si espone al pubblico. È una donna meravigliosa con questo viso tipicamente di Fabio Fabbi che ritroveremo anche in altre opere e una donna che fa vedere appunto le sue sinuosità e che espone la sua pelle così bianca, quasi perlacea. L'orientalismo di Fabbi si ritroverà anche in grandi soggetti iconici come per esempio la vendita della schiava che è un altro soggetto tipico di Fabbi con cui lui vinse un premio alla fine dell'Ottocento a Monaco. È un quadro che lui riprodurrà tantissime volte, addirittura all'interno del, e qui passiamo e spieghiamo anche che cos'è l'archivio Fabio Fabbi, all'interno dell'archivio Fabio Fabbi sono documentate tantissime versioni della vendita della schiava e addirittura ne fece almeno una decina in diverse dimensioni, addirittura scrivendo e appuntandosi a chi le aveva vendute. E quindi parliamo dell'archivio Fabio Fabbi. L'archivio Fabio Fabbi è stato da me fondato nel 2020 dopo il ritrovamento di un fondo importante di Tacuini dell'artista durante una mostra importante che è stata realizzata da Fondantico nel 2020 e 21. Era necessario fondare un archivio che tutelasse tutta la documentazione dell'artista e che tracciasse ovviamente non solo quella che possiamo avere qua esposta al Museo Ottocento ma che tracciasse la documentazione che hanno anche gli altri collezionisti. Quindi all'interno dell'archivio la consistenza è enorme, ci sono più di 30 Tacuini dell'artista che documentano tutti i viaggi, quindi non solo quello in Oriente ma anche naturalmente a Varsavia per esempio, un altro viaggio importante che lui realizzò anche a Parigi e tutte le tappe che lui fece nella sua vita, nella sua lunga vita. Lui era molto meticoloso come persona, possiamo immaginarcelo un po' come un piccolo giamburrasca, molto magro, sempre molto scattante, molto divertente e gioviale, una persona che possono amare tutti e infatti era cancro come me, nasce il 18 luglio e Fabi aveva questa caratteristica, la sua meticolosità lo portò a documentare veramente tutta la sua vita, anno per anno e quindi abbiamo la possibilità attraverso l'archivio Fabio Fabi di documentare la sua intera esistenza ed è incredibile, a parte alcuni tacuini che sono stati da me studiati alcune cose ancora aspettano di essere aperte. Abbiamo anche un fondo molto importante di fotografie a cui sto lavorando naturalmente e spero di riuscire a breve a creare un catalogo generale delle opere di Fabi e all'interno possiamo trovare fotografie di opere d'arte di Fabi che ancora non sappiamo dove sono ma che lui ha fotografato. Con la parte orientalista chiudo qui però apro un capitolo molto breve sulla parte non orientalista di Fabi. Fabio Fabi tornato dall'Egitto portò avanti appunto l'Oriente ma non solo, Fabio Fabi non è solo Oriente, ricordo che Fabi ha illustrato più di cento volumi per ragazzi, i volumi più importanti di fine ottocento inizio novecento dedicati alla narrativa per i giovani sono stati illustrati da Fabio Fabi e non solo, Fabio Fabi realizzò anche tantissime opere di stampo macchiaiolo, di stampo fin de siècle, in particolare delle vedute di Bologna molto note come le vedute delle quattro torri e delle due torri ma anche le vedute del Nettuno, di Via Orefici, delle vedute straordinarie delle bagnanti a Lido di Casalecchio e qua apro un ulteriore capitolo. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato grazie alle istituzioni naturalmente voglio ringraziare Elena Di Gioia, la delegata alla cultura, abbiamo inaugurato il giardino Fabio Fabi che è vicino naturalmente a che cosa? A Reno, proprio perché Fabi che morì a Casalecchio di Reno nel 1945 era particolarmente legato sia alla cittadina di Casalecchio in cui realizzò diverse opere tra cui nella chiesa di San Martino possiamo ammirare due tele straordinarie realizzate a fine nel 1944 quindi alla fine della sua carriera ormai ma lui era particolarmente legato anche a Reno e appunto realizzò diverse vedute sia della chiusa di Casalecchio ma anche delle bagnanti a Lido di Casalecchio ecco perché abbiamo deciso di inaugurare il giardino Fabio Fabi proprio in una zona limitrofa. Chiudo dicendo che Fabio Fabi è un artista straordinario, dopo Morandi è sicuramente a Bologna l'artista più conosciuto a livello internazionale, Fabi è conosciuto nelle case d'aste di Sotheby's, di Christis, di Doloteum, Fabio Fabi splende nel mondo e porta la nostra Bologna veramente a livello internazionale e qua al Museo 800 potete vedere diverse opere di Fabi come la favorita dell'area naturalmente, le pescatrici sull'Arno, una straordinaria veduta del 1887 quindi realizzata dopo il viaggio in Egitto che fa vedere due donne veramente all'avanguardia, due donne che sono sedute di tutto punto vestite perfettamente come per andare ad una festa ma sono sedute per terra a pescare sull'Arno, veramente un'opera affascinante che fa vedere quanto lui era avanti e poi potete naturalmente ammirare tantissime opere di documentazione dei taccuini e una piccola chicca, i mercati orientali a bozzetto in una cornice d'eccezione. Allora vi aspettiamo. Grazie a tutti.